a cantare ConfCommercio Como Graziano Monetti che oggi è venuto qui a trovarci con un'eleganza invidiabile nonostante il caldo è molto elegante è un piacere finalmente ritrovarti qua grazie di essere venuto a in Viale Varese il direttore il presidente di ConfCommercio perché? qui abbiamo un po' di cose di plastica l'acqua però noi ne vogliamo mettere al bando voi l'avete messa al bando innanzitutto spiegaci questo progetto che ne avete fatto allora intanto grazie a voi dell'invito e di questa opportunità che ci date di poter anche raccontare questa iniziativa è casa vostra è un'iniziativa in effetti un po' fuori dei nostri iscritti standard noi siamo una società di categoria tuteliamo, cerchiamo quantomeno di tutelare gli interessi dei nostri iscritti quindi i commercianti, i ristoratori, i ambergatori eccetera oggi però siamo qui perché insomma c'è un tema importante il lavoro planetario che è la plastica la plastica che si trova ormai dappertutto in particolare nei mari io stesso ho fatto una bellissima vacanza in Sicilia ma ahimè una delle attività del villaggio era raccogliere la plastica alla mattina sulla spiaggia una cosa molto spiacevole davvero sì sì davvero mi è sicuro che tra l'altro se ne recuperava tanta perché ogni mattina vedeva questo ogni mattina un scempio ogni mattina sì un'attività ovviamente facoltativa non obligatoria però purtroppo in un posto tra l'altro meraviglioso naturalistico molto importante però questo è e quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo pensato di ragionare un pochettino su come nel nostro piccolo potevamo dare un contributo a questo problema abbiamo ci siamo messi un po' a lavoro diciamo verso il mese di maggio abbiamo cominciato a ragionare abbiamo sentito un po' di aziende e di esperti diciamo della materia per avere così dei suggerimenti finché siamo arrivati a questa soluzione fai vedere tu dai Graziano ecco che è una borraccia è una borraccia in illuminio personalizzata vabbè fateci fare un po' di verificio sì si Commercio Como non c'è problema non c'è problema farvi vedere pure che abbiamo dato a tutti i nostri dipendenti ecco parte da voi giusto via Ballarini alla sede di Commercio Como e quindi per il momento coinvolge i vostri dipendenti giusto? coinvolge i nostri dipendenti quindi questo questo è per evitare ovviamente lo spreco giusto? per evitare lo spreco ecco quindi cosa facciamo? questa qui la mettiamo al bando buttiamola via buttiamola via buttiamola via è differenziata è differenziata però la ributa via basta plastica esatto non a caso si chiama plastic free giusto questa vostra iniziativa e come è stata ricepita Graziano? ma allora devo dire molto bene anche perché noi abbiamo contestualmente alla distribuzione dell'orracce installato un erogatore d'acqua in sede che prende acqua dall'acquedotto quindi diciamo nella città che è un altro tema importante cioè l'acqua a chilometro zero e anche il trasporto e c'è anche questo inquinamento problematiche e quant'altro l'erogatore ha evidentemente dei filtri di depurazione e quant'altro tra l'altro ha tre funzioni acqua a temperatura ambiente naturale acqua naturale fresca e acqua gasata fresca quindi quindi soddisfa tutte le esigenze soddisfa tutte le esigenze diventa anche un'attività di welfare aziendale importante perché il lavoratore non ha più l'onere dell'acquisto di una bottiglietta perché comunque insomma guardate abbiamo fatto un calcolino proprio stupidissimo dai qualche dato che mi dici ma noi siamo circa nella sede centrale siamo circa 43 45 abbiamo calcolato una media di due bottigliette da mezzo litro al giorno per la dipendente che ci sta perché c'è chi non ne beve c'è chi ne beve tre e sono 90 bottigliette d'acqua circa circa 90 moltiplicato per 312 giorni lavorativi sono nel nostro piccolo quasi 27.000 bottigliette d'acqua 27.000 e poi tutto quello che c'è attorno vero Graziano? esattamente esattamente non è solo il numero ma c'è anche tutto quello come si fabbrica come si smaltisce esattamente esattamente in effetti interessante per cui partendo da questa considerazione ho detto beh insomma sì certo il nostro è un piccolissimo contributo però non è anche così piccolo perché se tutti noi facessimo appunto questo ragionamento esatto siete forse i primi a livello cittadino giusto correggimi se sbaglio come associazione giusto siete sicuramente i primi sì 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 io poi ne ho parlato noi insomma ne abbiamo parlato anche al nostro organismo regionale la Confomercio Lombardia che ha recepito con entusiasmo questa iniziativa è una cosa questa bella sì tra l'altro mi pare proprio in questi giorni inizia la settimana Green Week di Milano per cui ci saranno una serie di iniziative dedicate un po' a temere ambientali e quindi anche all'acqua beh il morale la Confomercio Lombardia ha fatto suo questo progetto per cui ha divulgato l'iniziativa su tutte le Confcommercio provinciali della Lombardia e quindi questi 27.000 bottigliette di Como possono veramente diventare un po' più importante esattamente beh quindi possiamo dire che abbiamo qua da noi oggi il capofila di questa iniziativa di questo bel progetto perché come hai detto tu Graziano questa è proprio anche sensibilità ambientale è un tema certamente importante forte e di stretta attualità Greta insegna Greta insegna tra mia figlia si chiama chi lo dice anche mia figlia e quindi posso anche da questo da questo nome no credo che sia un dovere un po' di tutti insomma ecco comunque pensa al nostro futuro con questo non si vuole bandire il commercio delle acque o quant'altro ecco sì infatti non si vuole demonizzare assolutamente nulla ci mancherà assolutamente anzi vengono le bottiglie in vetro vengono altre soluzioni ecco il tema è in questo momento proprio la plastica che effettivamente almeno stando i dati e alle notizie che abbiamo un po' tutti i giorni perché poi davvero non ce n'è poi così tanto bisogno della plastica se noi veramente siamo qui a pensare una bottiglia di vetro che contiene dell'acqua farà la stessa funzione della bottiglia di plastica perché andare perché abbiamo un'abitudine che ormai dura da secoli ma da moltissimi anni che la plastica fa parte della nostra quotidianità anche il vetro va smaltito anche il vetro però viene smaltito in modo diverso certo perché poi infatti state dicendo una cosa molto giusta cioè il problema non è la plastica la plastica a me lo personalmente ritengo che sia un'invenzione straordinaria dell'uomo perché è un materiale che tu puoi modellare come vuoi che dura praticamente in eterno è vero il problema è l'uso e getta che si usa nella plastica cioè un materiale pensato e studiato per essere come dire indistruttibile in realtà noi lo usiamo tutti i giorni per un monouso e poi lo gettiamo è vero questo bicchiere che vedete pieno di acqua non verrà gettato ma se lo porterà a casa e durerà per almeno due o tre anni giusto? allora diciamo prendi un attimo scusa questa borraccia che le avete personalizzate voi con nomi e cognomi ovviamente immagino abbiamo personalizzato dei dipendenzi certo certo ognuno ha la sua chiediamolo anche noi al nostro amministratore facciamo la nostra licenzia costerà quanto costa una bottiglietta poco no non costano moltissimo si possono fare poi chiaramente noi avendo fatto un relativo grosso ok abbiamo potuto anche negoziare qualcuno ha detto sì però insomma certo è un contributo all'ambiente ma un falso contributo perché per produrre questa comunque si infida va bene grazie però così insomma come si dice a Milano siamo in un cul de sac giusto perfetto va bene queste sono le cose belle che ci piacciono e che vogliamo farvi conoscere e vedere ovviamente amici che ci ascoltate e ci guardate nella nostra diretta facebook ne approfitto della tua presenza direttore come è lo stato di salute di commercio como ma allora stiamo vivendo una stagione sicuramente molto interessante dal punto di vista turistico il turismo infatti il turismo sta andando davvero a mille un po' in tutte le zone della città con punte di eccellenza e punte un pochettino più di sofferenza e ovviamente il turismo poi trascina tutta una serie di indotto che è benefico per tutte le attività il commercio vero e proprio invece versa un po' in sofferenza cioè ci sono delle zone dove appunto per il turismo o per altri fattori resistono però purtroppo assistiamo delle chiusure anche importanti le ultime sono state la pasticceria bolla anche i negozi di giocattoli ho sentito che si picco pallino tra pochi giorni novembre sì quindi è interessante perché probabilmente con la liquidazione si sicuramente ma ecco quali sono i settori più colpiti cioè il turismo a parte è una cosa ovviamente è un volano importantissimo come l'abbigliamento piuttosto che ma allora sì più che l'abbigliamento l'accessorio l'accessorio della moda perché sta veramente subendo una fortissima concorrenza dell'online ah certo è vero cambiano i tempi hai ragione Graziano effettivamente sì anche questo è vero sì poi ci sono le catene molto aggressive tanto è che le chiusure che abbiamo visto sono state immediatamente rimpiazzate quasi tutti da catene e le catene hanno dei vantaggi ma hanno anche degli svantaggi prima di tutto molto spesso non sono del territorio non sono espressione del territorio maggior parte di altre città e quindi sentono meno magari le esigenze e le necessità del territorio dove si insediano non portano tipicità portano appiattimento dell'offerta commerciale oggi andare a Venezia andare a Firenze andare a New York è vero assolutamente sì questo sì in effetti sulla tipicità sono perfettamente d'accordo quindi qualche sofferenza comunque c'è ancora anzi c'è ancora purtroppo sì sarebbe meglio dire di no ma in realtà è stato di fatto abbastanza oggettivo quanti siete iscritti professionalmente? adesso siamo intorno ai 4500 iscritti è un numero importante sì sono numeri ancora importanti sono comunque in calo perché eravamo di più cerchiamo di resistere come dice il vostro presidente nazionale resistere resistere il termine è giusto Graziano resistere è giusto è giusto e deve essere però anche un messaggio che deve un po' arrivare dalla politica adesso con questi movimenti sul governo eccetera siamo fortemente preoccupati di alcuni fattori primo fra tutti l'aumento dell'IVA perché siamo convinti che con un IVA del genere si affossino i consumi definitivamente quindi per il commercio sarebbe veramente la fine perché è ufficiale ci sarà l'aumento dell'IVA? no non è ufficiale grazie le dichiarazioni sono le promesse che abbiamo fatto sono solo di mantenerle comunque è alta è già alta è alta è alta già così certo sarebbe meglio qualcosa di meno prevedere un aumento sarebbe veramente come hai detto Graziano una mazzata importante sì quello che volevo appunto cercavo di dire era proprio questo siamo in un momento in cui il commercio bisogno di aiuti non di balzelle noi faremo tra l'altro 7 ottobre proprio un convegno sulle imposte locali perché sono quelle che poi portano fuori concorrenza le aziende nostre rispetto a quelle di altri paesi ok giusto interessantissima questa cosa allora chiudiamo l'incontro di oggi a Ciacomo di mattina ringraziando il direttore Graziano Monetti grazie grazie mille a voi grazie davvero Graziano eccola qua la borraccia che fa bella mostra di sé quando si arriva lì vediamo tutti i dipendenti che girano con la borraccia bravi vi aspetto a provare l'acqua la borraccia comunque bravi comunque bravi perché in effetti è una bella tema una bella sensibilità che avete mostrato bravi e complimenti ciao grazie 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 a tutti i